La crisi continua a mietere vittime. Quattro ore di sciopero stamane con presidio alla Siram di via Bisceglie a Milano. I lavoratori hanno protestato contro i 150 esuberi annunciati dall'azienda. La Siram è una multinazionale francese con oltre 2.000 dipendenti nel nostro paese e oltre 300 nel capoluogo Lombardo. Opera nel settore dell'installazione e manutenzione degli impianti in strutture pubbliche come scuole e ospedali. Nel 2011 500 lavoratori sono stati posti in cassa integrazione e 230 in mobilità volontaria. Adesso arriva un'altra ammazzata con 150 esuberi annunciati di cui una novantina a Milano. In realtà il problema è più generale perché il problema è più legato alle operazioni di continui tagli del ministerio da parte del pubblico. Queste aziende che lavorano per la manutenzione di tutti i servizi e strutture pubbliche è chiaro che risentono anche di questa difficoltà. Il problema è il solito, la crisi generale viene poi ribaltata interamente sull'occupazione, sui posti di lavoro ed è per quello che anche oggi siamo qui per dire che non possono essere sempre solo i lavoratori a pagare le difficoltà del paese e della crisi generale. E sempre oggi 4 ore di sciopero anche alla CSC di Assago. La multinazionale americana ha scorporato l'azienda in due società e una con 600 lavoratori sta per essere ceduta. Il futuro di questi dipendenti versa nella più totale incertezza. Si parla al momento del fatto che ci sarà la cessione da parte che avverrà a fine mese da parte di CSC e Deda Group di una possibilità di un ulteriore 150 esuberi presumibilmente.